L'ordinanza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci è la logica conseguenza del due giorni di incendi allo stadio Erasmo Iacovone. Sono in corso due tipi di indagini. Da un punto di vista legale bisognerà accertare il perché di quello che è accaduto domenica e in particolar modo anche le responsabilità. Dall'altra invece c'è il discorso sportivo perché oltre alla giornata a porte chiuse per il Foggia ci saranno delle conseguenze probabilmente al termine delle indagini dal punto di vista legale. Intanto il Taranto ha ripreso la preparazione al campo B. Il campo A è stato chiuso per la gara tra Brindisi e Catania come già annunciato nel TG di ieri e i grossi dubbi restano per quanto riguarda il match tra Taranto e Messina tra due lunedì quando i Rosso Blu giocheranno la terza giornata di campionato. L'ipotesi che la gara possa essere slittata permetterebbe al Taranto poi di giocare due match consecutivi esterni e poter così avere il tempo di recuperare l'impianto di videosorveglianza nella sua interezza e capire se in Curva Sud si potrà accedere o meno. Ricordiamo che in Lega Pro per poter giocare una partita a porte aperte bisogna avere l'agibilità di tre settori. Qualora fosse chiusa la Curva Sud ci sarebbero Curva Nord, Gradinata e Tribuna per poter giocare la gara con il pubblico con la formazione ospite che avrebbe a disposizione un numero di biglietti in un settore che verrebbe successivamente identificato. Intanto bisognerà attendere davvero su tutti i fronti per non ripetere comunque gli errori commessi sia domenica sia martedì. Grazie.